L'emergenza sbarchi a Lampedusa preoccupa di nuovo gli abitanti dell'isola dopo l'esperienza del 2011 quando nel centro di accoglienza finirono migliaia di persone superando il numero degli abitanti stessi. Le strade pattugliate giorno e notte da un numero imponente di forze dell'ordine, il nostro inviato Matteo Parlato ha intervistato il sindaco Giussi Nicolini. Emergenza Lampedusa, un titolo che da solo basta a terrorizzare gli isolani, quasi quanto l'idea che si possa ripetere il disastro del 2011. Lampedusa nel 2011 era una specie di vicolo secolo, le persone arrivano qui e qui rimanevano. Perfetto, ma così si creò l'emergenza, interrompendo i trasferimenti. Quindi oggi non c'è l'emergenza e il modo per evitarla è quello che si è fatto ieri, che da ieri si è cominciato a fare in maniera sistematica. Quindi possiamo guardare all'estate con serenità. Serenità che il Ministero dell'Interno sembra voler garantire con i fatti. Ieri una staffetta aerea ha trasferito 500 migranti in poche ore. Riprendiamo fiducia e speranza. Significa che il governo ha capito come fare funzionare il sistema, cioè azionando trasferimenti veloci. Se la macchina dei trasferimenti funziona, allora non c'è emergenza. Arrivo dei profughi, fuga dei turisti? Uno slogan senza fondamento. Gli stessi dati dicono che i due fenomeni non interferiscono. Noi abbiamo avuto un flusso in aumento dei migranti in arrivo, così come abbiamo registrato un costante aumento delle presenze turistiche, tranne la parentesi del 2011. Ecco, quello è il monito. Lampedusa non come isola di frontiere, ma come isola di passaggio. Eppure molti si informano sull'emergenza Lampedusa prima di prenotare le vacanze. Questo, secondo il sindaco, ha un suo perché. Si chiamano sbarchi quelli che sono soccorsi, si rappresenta l'idea di un'invasione che in realtà non esiste. E la cosa più seria, secondo me, è che il nostro paese, l'Italia, non è preparato poi ad accogliere queste persone che qui arrivano. E quindi l'informazione allarmistica e di tipo emergenziale non è legata al territorio di Lampedusa, che invece... E' più legata a un'incapacità nazionale a gestire il problema? Sì. Va cambiata la nostra politica sull'immigrazione. Va cambiata la rete d'accoglienza e allora si finirà di guardare a questo fenomeno assolutamente naturale, fisiologico, storico, come a un fatto emergenziale.